Perdite ovunque, bollette sempre più care ed un utile per Publiacqua da 29 milioni di euro. In questo preoccupante scenario, come al solito, il sindaco Mugnai non interviene. Con queste parole, il consigliere di 5 Stelle, la figliene incisa Lorenzo Naimi, commenta la situazione che si sta verificando da diverso tempo sul territorio comunale. Stamattina, afferma Naimi, abbiamo documentato direttamente l'ennesima perdita d'acqua, litri e litri, che quotidianamente vengono sprecati. La cosa più preoccupante è che la perdita si è verificata in piazza Caduti di Piandalbero, dove, solo pochi giorni fa, dopo più di un mese di attesa, era stata riparata un'altra perdita. Assistiamo ad un rattoppamento continuo dove si ripara un tubo e si rompe quello accanto. La situazione è diventata insostenibile per i cittadini a fronte anche delle bollette più alte d'Italia ed un servizio chiaramente insufficiente e quasi mai tempestivo. In questo scenario, continua il pentastellato, la voce e soprattutto le azioni concrete che mancano sono, come al solito, quelle del sindaco Mugnai, che si guarda bene ed entra a prendere qualsiasi atto formale che vada in contrasto con Publiacqua, la quale, ricordiamo, nel 2015 ha avuto un utile da oltre 29 milioni di euro. È emblematico che, nell'occasione in cui ci si poteva opporre all'aumento delle tariffe idriche, né il sindaco né un suo delegato abbiano presenziato, lasciando ad altri il compito di impedire l'ennesimo aumento. Considerata la corposa partecipazione pubblica in Publiacqua, promuovere un'azione congiunta con gli altri comuni al fine di tutelare l'interesse dei cittadini e la preservazione di un bene pubblico e prezioso come l'acqua sarebbe il minimo che Mugnai dovrebbe fare. L'indecorosa situazione a cui assistiamo, conclude Naimi, ci pone numerosi interrogativi. Chi pagherà i litri e i litri d'acqua sprecati in questo periodo? Quanto e come è stato investito nella rete idrica del nostro comune? Qual è lo stato delle tubazioni sul nostro territorio? Perché Publiacqua, invece di distribuire i dividendi, non investe in nuove tubazioni e aumenta le squadre di pronto intervento? A queste domande sappiamo che difficilmente avremo una risposta esaustiva da parte di Mugnai, quindi ci auguriamo soltanto che la situazione non peggiori, termina Naimi, nella consapevolezza che quando cambierà l'attuale classe politica l'acqua davvero tornerà una risorsa pubblica.